Nel cuore del rinnovato auditorium Versace, situato presso il Cedir, si è tenuto un evento di straordinaria importanza, una passerella per Grace, organizzato con maestria dalle associazioni Grace ed Artemide e con il sostegno prezioso dell'amministrazione comunale di Reggio Calabria. Questo evento ha offerto un'occasione unica alle donne che hanno sconfitto il cancro, permettendo loro di rinascere e riscoprire la gioia di vivere attraverso la bellezza. Non si trattava solo di un fatto estetico, ma di un simbolo profondo, di armonia interiore e riscatto personale. La manifestazione è stata uno spettacolo dentro lo spettacolo, un'opportunità per riflettere profondamente su un tema delicato ma doloroso, ma al contempo è riuscita ad offrire un momento di leggerezza e speranza. Le donne, con il coraggio e la forza interiore che le contraddistingue, hanno sfilato sulla passerella con un sorriso autentico e rinnovato, trasmettendo un messaggio di resilienza e di fiducia nel futuro. A presiedere l'evento e a dare il benvenuto agli ospiti c'erano il sindaco Giuseppe Falcomatà e l'assessore Carmelo Romeo, rappresentanti del comune e della città metropolitana di Reggio Calabria. La loro presenza ha sottolineato l'importanza e il sostegno istituzionale a iniziative di questo genere che promuovono la solidarietà, la valorizzazione della vita e la bellezza interiore. Una bellissima iniziativa, quella organizzata dalle associazioni Grace e Artemide che noi come comune e come città metropolitana abbiamo patrocinato e ospitato all'interno dei rinnovati locali del Salone Versace del Cedri. Lo facciamo perché è un approccio diverso. Questa iniziativa ci insegna che rispetto a determinate malattie, rispetto a determinate patologie serve un approccio naturalmente scientifico e medico ma serve naturalmente anche un approccio che riguardi più l'aspetto morale, umorale e psicologico e quindi determinate sfide, determinate battaglie vanno affrontate con coraggio, con consapevolezza, senza mai perdere quello che è il senso della persona. Io ringrazio l'associazione Grace perché fa luce, accende un faro rispetto a queste problematiche e le ragazze, le donne che vedremo sfilare oggi in Passerella sono un esempio, sono un esempio a cui fare riferimento, a cui guardare per tutte le donne che purtroppo ancora stanno attraversando i loro deserti, hanno bisogno di esempi di coraggio, di bellezza e di forza come quelli che vedremo oggi sfilare qui al Salone Versace. Assolutamente sì, siamo onorati e contenti di collaborare con Grace a questo evento. Personalmente ho conosciuto Grace anche nell'esperienza come Presidente della Commissione Politiche e sociali e nel corso di questi ultimi due anni ho avuto modo di stare al loro fianco durante tutto l'anno, non soltanto nell'evento di punta che è la sfilata, la passerella per Grace che oggi giunge alla seconda edizione, ma in tutto il percorso che seguono 365 giorni l'anno. È una situazione che dà davvero forza alle donne che vivono un momento particolare e dà anche un'ulteriore forza per superarlo ed è da stimolo per tutti.